E' morto a Palermo Biagio Conte a 59 anni, il missionario laico protagonista di numerose battaglie in difesa dei poveri e degli indigenti, dove nel 1993 aveva fondato la missione Speranza e Carità. Da tempo era gravemente malato, attorno a lui si sono stretti fino all'ultimo i volontari e gli ospiti della comunità, che aveva fondato una vita spesa per gli ultimi, quella di Biagio Conte, che ha creato a Palermo in provincia ben nove comunità. Figlio di imprenditori edili, a tre anni viene portato in Svizzera in un collegio di suore, ritornando a Palermo a nove anni, per poi essere inserito nel collegio di San Martino delle Scale per quattro anni. Nel maggio 1990, però, la scelta di vivere come eremita, ritirandosi nelle montagne dell'entroterra siciliano, e successivamente facendo un viaggio interamente a piedi verso la città di Assisi. Fra Biagio era tornato a lanciare appelli alle istituzioni per aiutare la missione che aveva fondato nel pagamento delle bollette e delle spese necessarie per garantire l'assistenza agli indigenti. Aveva fatto tappa in diverse località del Tirreno Cosentino e a Paola ha visitato il Santuario di San Francesco. Nel suo viaggio ha chiesto solo qualcosa da mangiare e un po' d'acqua, ma soprattutto conforto e preghiera.